salve care amiche ed amici qui il vostro santen chan che vi parla beh come dire sto seguendo la situazione politica italiana e realmente è sempre più strana comunque bisogna cambiare la politica in italia di questo me ne rendo conto anch'io infatti mi sto attualizzando sono un forcone anch'io e quindi facciamo sta rivolta dei forconi andiamo tutti piazza col forcone e questo anno al forcone e poi vabbè mi dite che ci andiamo a fare in piazza col forcone vabbè comunque siamo i forconi siamo gli forconi e ben niente io che guardo da lontano non finisco di stupirmi il nord presso dai forconi trattano i politici come forse ci hanno ragione per questo che mi sono premunito anch'io di forcone manico a natale diventiamo forconi per pasqua chissà che cosa comunque allora forza italia non nel senso del partito politico anche se loro anche loro vanno vabbè mi raccomando lottiamo però entro i limiti della democrazia io non voglio nessuna manifestazione violenta non voglio giustificare la violenza quindi mi raccomando con cittadini italiani vabbè uscire un po fuori di testa e essere creativi ma non facciamo cazzate non facciamo cose violente perché gli anni settanta non sono molto lontani nella storia quindi un appello che faccio a tutti voi e di poter criticare e rifiutare le idee ma sempre accettare accettando le persone ecco accettare gli altri e riuscita ne eventualmente le idee ma accettare gli altri e rifiutare la violenza perché non porta nulla di buono anzi a forme reazionari ancora più repressive di quelle che ci sono e quindi allora vedremo quello che succederà il sabato e per il momento se il movimento non mi delude anche se non ho capito che cavolo di movimento e però diventiamo tutti for con ai siamo i forconi siamo beh lui è un forcone ciao e voglio spegnere la camera ciao mi raccomando niente violenza se no io ripudierò pubblicamente il movimento al primo gesto di violenza sconsiderato di saccheggio di pestaggio io formalmente dal mio canale di youtube santencian ripudierò il movimento se ci sarà violenza se no vi continuerò ad appoggiare capito mi hai arrivederci e buon natale di nuovo mi raccomando non rovinate le feste